Dopo il convincente successo in Coppa Italia per l'audacea Cirignola è arrivato il momento di cominciare il campionato di eccellenza pugliese 2016-2017. La prima giornata del girone di andata prevede per i giallo-azzurri allenati da Massimo Gallo la prima impegnativa trasferta sul terreno del Taranto. Una partita indubbiamente importante che vuole cercare di mantenere la giusta positività. Ricordiamo che i giallo-azzurri in Coppa Italia hanno vinto nella gara di andata contro il LVS per una rete a zero. Nonostante le assenze di alcuni giocatori di peso, la squadra ha dimostrato grande compattezza in campo e sugli spalti. Tornando a disposizione di Pasquale e Schiavone, il capitato le prenderà il regolarmente il suo posto al centro di attacco. Mentre si va allineando la conferma della coppia albanese con Lella assai positiva in Coppa Italia. Lella Staranto è il suo terzo campionato in eccellenza dopo una salvezza ai play-out alla prima apparizione. La scorsa stagione ha avuto la possibilità di spidare il gravina nella finale di Coppa Italia. In questo torneo non muta la filosofia anche se aspira ad essere una delle sorprese. Mimmo Siena, Speciale News.